La natura ha in sé una potente forza. La natura è l'unica connessione che conta davvero. L'accurata scelta delle materie prime e unita alla nostra passione ci permette di preservare il 100% dell'energia vitale. Puoi facilitare il transito intestinale con cascarelli in pastiglie o in grani e agar-agar con fermenti e clorofilla. Nelle migliori erboristerie, farmacie e parafarmacie. Giorgini Dottor Martino. Lavoriamo per far star bene le persone. Grazie.